Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Franci Maglio Oggi siamo in un nuovo video dove vi mostrerò tre mappe in anteprima Scusate se ho la skin del nabbo, però c'è solo queste due perché ho un nuovo account Però c'è la versione beta, se vedete dall'in alto Da in alto pure, vi ho fatto vedere prima delle impostazioni Comunque andiamo a giocare Però per giocare dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like E lasciare un commentino divertente sotto al video Quindi andiamo a giocare L'avete fatto? Ok, bravi Andiamo a selezionare la burrito bonanza Che è una nuova mappa Giochiamola E vediamo com'è questo burrito bonanza Comunque raga Se vi piacciono i miei video di StumbleGuys Scrivetelo sotto nei commenti Così vi porto tanti Ok Ok, stiamo qua Sto arrivando in burrito No, no, no No, no, no Ok Queste sono patatine tutte E cosa? Ahia Venga ma vi fanno scivolare No, vi fanno cadere Nella perizione Non so se c'erano anche i pagurritos Quanto sarebbe difficile Ok Il livello un po' difficile Però l'abbiamo superato Però vado ad andare di qua Ma che bello Questa è ottima Si è fatto il nascondino con i vostri amici Vabbè io sono caduto Andiamo su queste bruschette Di pane Di pane No, riga No, sono caduto Sì che sono caduto No, no, no Nel morso Nel morso Nel morso Ok Bravo Bravo Piccolo mio di Stumble Ok Io vado sempre a letterare Così vado a scoprire Ma riga Va Ma vabbè È bellissima Però vi porterò un altro video Dove la rivedremo meglio Adesso andiamo con la seconda mappa Che è La C'è con la terza mappa Volevo dire Elimination base Creiamo Andiamo Partita No, forse è la seconda Ah si è la seconda Perché non vi ho fatto vedere ancora un'altra mappa Che è super bella Ma riga Ma è la stessa mappa NERF E' la mimia Quanti secondi Commanda C'ho il commander E l'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso E' fattito Ti odio E' speso Vado sempre L'ho ucciso Non riga sto morendo Sto morendo Sto morendo Non riga sto morendo Ma è qualcosa ma si riavvolge in questa notte fuori 4.000 fatti fuori 5.000 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 fatti fuori 6.000 fatti fuori